Il cervello umano è la più complessa struttura conosciuta. Il suo compito è di elaborare gli input provenienti dai nostri sensi, di coordinare i nostri movimenti ed è responsabile di una moltitudine di processi cognitivi. Tutte le capacità del nostro cervello si basano sull'attività di singole cellule nervose. L'obiettivo delle neuroscienze computazionali è quello di scoprire le leggi delle loro interazioni. Le cellule nervose comunicano fra loro sotto forma di impulsi elettrici, che vengono inviati da una cellula all'altra. Questi impulsi codificano delle informazioni che vengono elaborate all'interno della cellula ricevente. Il risultato è l'emissione, o meno, da parte della cellula stessa di un ulteriore impulso. Il cervello umano, tuttavia, non consiste di una manciata di poca cellule. In realtà, circa 10 miliardi di cellule compongono la sola cortezza cerebrale ed ognuna di esse comunica con circa 10.000 cellule vicine. La domanda è dunque in che maniera è possibile analizzare e descrivere questi processi in una maniera scientifica e in che maniera l'attività a livello cellulare è connessa a ciò che noi comunemente consideriamo essere le abilità o disabilità cerebrali. Per comprendere questi processi è necessario rendersi conto di un fatto molto importante. Le cellule nervose formano una rete. Le reti di interazione sociale, il World Wide Web ed il cervello obbediscono a delle leggi comuni. Se vogliamo comprendere la rete formata dal nostro cervello, dobbiamo per prima cosa studiare le cellule nervose. Le leggi che governano il loro comportamento devono essere descritte nel linguaggio della matematica. Delle opportune equazioni matematiche possono essere in grado di spiegarci perché una rete si sviluppa in un certo modo o perché reagisce agli impulsi esterni in una maniera specifica. Un ulteriore vantaggio di una discrezione matematica è il seguente. Una volta che questi processi sono stati discreti d'equazioni è possibile studiarli tramite il computer. In questa maniera è possibile creare reti neurali artificiali che replicano la struttura di una popolazione di cellule nervose all'interno del cervello. Al giorno d'oggi, il computer mettono a disposizione una sufficiente potenza di calcolo per effettuare simulazioni realistiche di reti neurali, aiutando a comprendere fenomeni osservati in laboratorio. Tuttavia, la ricostruzione di un intero cervello umano è ancora al di là dell'odierna tecnologia. I risultati di queste simulazioni computerizzate possono essere confrontate con l'intuizione dei neuroscienziati nelle loro ricerche sui cervelli reali. Lo scambio fra dati sperimentali e teorici è di grande importanza. Questo scambio assicura che i modelli estratti siano consistenti con la realtà sperimentale. La discrezione dei processi cerebrali tramite la matematica e tramite simulazioni di reti nei computer aiuta a capire come miliardi di cellule nervose cooperino. E come questo risulti nell'elaborazione di input sensoriali, nella coordinazione dei movimenti corporei e nella nostra abilità di pensiero. Questa comprensione ci aiuterà anche a trovare le cause di certe disfunzioni cerebrali. Questi sono gli obiettivi primari delle neuroscienze computazionali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.